La settima edizione della Corsa dell'Immacolata la facemmo la prima volta nel 1971, io avevo 16 anni, con l'aiuto ovviamente di alcuni adulti ed fu una corsa bellissima, ne facemmo quattro edizioni, poi dovettimo interromperla per impegni anche personali di ognuno di noi che iniziavano la carriera professionale e poi invece negli anni passati, esattamente nel 2018, ci siamo detti ma perché non riproporla e quindi abbiamo riproposto questa corsa in quegli anni, nel 1972-73, la corremo con 70 cm di neve, quest'anno fa freddo però auguriamoci che almeno non piova Noi abbiamo diverse corse, quest'anno proporremo anche in maggio la Maratona di Chieti e la Maratona e la Mezza Maratona La Corsa dell'Immacolata siamo particolarmente legati perché? Perché negli anni passati era usanza che l'Arcivescovo di Chieti deponesse alla statua della Madonna della Villa Comunale una corona di fiori e quindi anche gli atleti partecipavano a questo evento Adesso piano piano si ristaurerà anche questa tradizione e forse già dall'anno prossimo riprenderemo questa cosa con Covid permettendo Un evento che abbiamo fortemente voluto riportare in città, un appuntamento che saprà veramente rappresentare un momento di sport, di aggregazione in giornate così belle, con gli eventi di Natale e con un cartellone davvero ricco Sarà l'occasione proprio questo sabato per vedere tante, tanti giovani, tante partecipazioni a questo appuntamento ma ripeto, abbiamo individuato anche delle zone precise di città che sicuramente sapranno rappresentare qualcosa di importante per la Maratona Un momento quello di questo sabato dove in città avremo anche diversi eventi sul corso con i mercatini, con la Parata Disney, con tanti appuntamenti e quindi siamo andati a completare questa giornata con la Maratona Città di Chieti che ha un percorso sicuramente molto bello e divertente per i partecipanti Tante sono le adesioni, insieme al presidente del CSI Mimmo Puracchio ed insieme appunto al Centro Sportivo Tutto abbiamo voluto far sì che questa Maratona si tenesse in un giorno peraltro come quello dell'11 di dicembre che anche saprà sicuramente, essendo fine settimana, essere molto partecipato Grazie per la visione